Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presentiamo un gioco, il cui nome è Root, e un altro Kickstarter di successo. Un gioco che ci è stato fornito dalla Leather Games, che ovviamente salutiamo e ringraziamo grazie al vero di cuore ragazzi per averci offerto una copia per fare questa recensione. E questa è proprio la copia del Kickstarter. Root è un gioco fantastico, ambientato in un woodland, in un bosco, dove ci saranno quattro fazioni che si contenderanno il territorio. È un gioco di carattere fantasy, per quanto come ambientazione fatata e ad un primo acchito molto fanciullesca, bambinesca, va sicuro che invece un gioco di strategia sia semplice, con delle regole molto semplici che vedrete, ma soprattutto molto immersivo e tattico. Non vuol dire che se un gioco ha una componente un pochino più cartoon, un pochino più che sembra mirata ad un target infantile o comunque un po' più piccolo rispetto a noi magari giocatori di vecchia data, non sia comunque un gioco strategico degno. E Root lo è assolutamente. Iniziamo con l'unboxing. La scatola del gioco, che come vedete è piccolissima contenuta, però insomma abbastanza, abbastanza sincera nel peso. E la grafica del gioco è molto carina, vedete la scritta Root, con le quattro fazioni in gioco che vi andrò a descrivere, e poi dietro lo sfondo del boschetto, perché vi ricordo che è un mondo fatato, un mondo fantasy, un regno fantasy, si è ambientato dentro un bosco. Il regolamento di gioco, anche questo qui piccolino e con le regole giuste, essenziali, c'è anche un walkthrough all'interno. Hanno avuto una figata d'idea, ci hanno messo un'avventura di base da seguire step dopo step per imparare a giocare, ed è molto carino. Un libretto con un sunto di tutte quante le regole, i termini di utilizzo e tutto quanto. Insomma, se non vi ricordate una regola in particolare, andate qua dentro e la trovate prima di girare per il manuale. La scheda del walkthrough che vi dicevo, quindi vi basterà nemmeno, non dovete nemmeno leggere il regolamento per fare questa partita, vi basta seguire mano a mano quello che c'è scritto e farete una partita divisa in due turni che vi insegnerà a giocare. Fatta questa avventura di 10-15 minuti è finita, siete pronti per giocare a ruta normale. La mappa del gioco, che ora andremo ad aprire perché è ancora chiusa, la mappa del gioco che ci vede nella campagna durante l'autunno è una campagna durante l'inverno, quindi mappa double face da una parte è la campagna d'autunno e quell'altra invece è la campagna invernale con le regole proprie. I token dei vari equipaggiamenti, i token delle varie fazioni più i punti vittoria, i due dadi a 10 facce, il mazzo delle carte, e i meeple delle varie fazioni. Ora facciamo una partita da due, vi facciamo vedere le regole per una partita a due giocatori. In una partita da due giocatori, da regolamento, le forze in campo devono sempre essere la Marchesa dei Gatti, quindi una forza avversa, cattiva tra virgolette nel gioco, che mira più che alta all'industrializzazione della foresta, e dall'altra parte gli Eri, che invece sono un gruppo di combattenti, vedeteli un po' come Robin Hood se volete, che cercano di sovvertire il regno della Marchesa, che sta cercando di conquistare il bosco, tagliare la legna per industrializzarlo e distruggere tutto quanto il regno. Comunque le forze in campo sono queste due. Questa è una delle schede, delle quattro schede, delle quattro fazioni presenti nel gioco, e questa è la scheda della Marchesa dei Gatti, con tutte quante le regole su come giocare turni, perché il gioco si divide in tre fasi. La prima fase che è il Birdsong, la seconda fase che è il Daylight, e la terza fase che è l'Evening. Qui ci sono tutte le regole per giocare, che tra l'altro, oltre ad essere una scheda di gioco, è proprio anche un riassunto di tutte le regole, appunto, di questa fazione. Perché ricordo, la cosa più bellina di Root, è che ogni fazione ha le sue regole per giocare. Prendete uno zombie, sai, dalla fin fine tutti si tira dadi per combattere i zombie. Oppure un altro gioco dove, per quanto l'obiettivo può essere diverso alla missione, le regole si accomunano e quindi ci fanno sempre andare nella stessa direzione, con lo stesso obiettivo, gli stessi dati da attirare. La cosa bella di Root è invece che ogni fazione ha le sue regole precise, e quindi il turno della Marchesa dei Gatti sarà completamente differente da quello degli Airi. Ci dice che cosa ha come componenti la fazione, scritto qua su in cima, e ci dà addirittura una regola sul setup, qua giù in fondo, i vari step del setup, cose da fare prima di iniziare la partita. La prima regola del setup, lo step 1, ci dice di prendere il keep della Marchesa e metterlo in uno dei quattro angoli della mappa, ovviamente di vostra scelta, tanto inizialmente non saranno conquistati da nessuno, quindi scegliete uno dei quattro angoli e ci mettete il keep token. Le varie zone della mappa si chiamano clearings, e sono queste zone qui, tipo questa qui, questa qui, oppure quest'altra qua giù. Questi qui sono i vari clearings del gioco che sono le zone, e ogni zona è connessa a un'altra da una stradina, quindi vi potete muovere da una zona all'altra soltanto seguendo la stradina. Io metto il token del keep della Marchesa dei Gatti e lo metto qui, in questo clearings, e quindi questa qui sarà la zona di partenza iniziale con il keep, il castello della Marchesa. Poi dice di prendere un guerriero della Marchesa, che sono quelli arancioni, dello stesso colore della scheda della fazione, quindi saranno sempre gli arancioni per la Marchesa, e dice di mettere un guerriero per ogni clearing, ogni zona del gioco, a patto che non sia la zona diametralmente opposta, in diagonale, rispetto a dove avete messo il keep. Quindi tutte le zone della mappa, forché questa qua su. Nei tre clearing, come terzo step del setup della Marchesa, adiacenti al keep, quindi quello, questo e questo, devo mettere a mia scelta un recruiter, per reclutare le truppe, che io lo metto, mettiamolo qui, lo dovete mettere sempre nei quadratini bianchi, le strutture si mettono sempre nei quadratini bianchi, presenti in ogni zona, poi un sawmill, che metto qua giù, una sigheria, e un workshop, per costruire armi, che lo metto invece qui. girate la scheda, e dice di riempire, con dei cursori, tutti quanti, gli step che avete appena fatto, quindi noi di partenza abbiamo un sawmill, un workshop, e un recruiter, quindi su questi simboli qua giù, ci andate a mettere sopra, un token, per ricordarvi che, avete tutte quante queste tre strutture, attualmente presenti in gioco. il setup invece degli eri, invece, prettamente differente, perché, cosa ci dice, questa volta invece di avere quattro step, per il setup come la marchesa, gli eri ne hanno tre, come vedete qui sulle regole. La prima regola, invece, degli eri, per mettere il keep principale, dice di mettere un keep, in una zona, che sia, non diagonalmente opposta, a quella del marchese, quindi, io non potrei metterlo qua giù, perché sarebbe opposta a quest'altra, allora scelgo, iniziando appunto questa partita, da due giocatori, e la metto qua giù in fondo. Non vi preoccupate, se nello schieramento, nella zona, c'è già la pedina, un soldato di un'altra fazione, perché vedrete dopo appunto, come funziona. Comunque, io metto il mio keep qua giù. Ora, la regola numero uno, mi dice, di mettere sei guerrieri, e un rust, quindi un nido come questo, nella zona diametralmente opposta, alla partenza, rispetto al keep principale degli eri, quindi la metto qua su in cima, e vado a prendere sei guerrieri, che andrò a posizionare la sua in cima, che vi ricordo, i guerrieri sono quelli di colore blu, e le vado a mettere la sua in cima. Gli eri hanno dei leader, che forse è la regola più bellina in assoluta del gioco, cosa che, ad esempio, la marchesa non ha leader, perché è sempre solo lei leader, invece loro ne hanno quattro, e all'inizio della partita, dovete scegliere un leader, fra quelli che vi pare, un despota, un builder, guardate voi, ne scegliete uno soltanto, io prendo ad esempio il gufo, e gli altri tre li scartate, per ora li mettete da parte, quindi nella scheda di partenza, girandola dalla parte opposta, andrete a mettere il leader nella sua casella, dove c'è scritto leader card. Da qui in avanti inizia la partita, iniziano turni, vi ricordo che ogni giocatore, deve avere l'iniziativa per fare la prima azione, quindi prendete magari un dado da 10, tiratelo, e chi fa il risultato più alto, avrà l'iniziativa per quel turno, e il turno si divide sempre in tre fasi, la prima e il bird song, il daylight e l'evening, queste sono le tre fasi, che ogni giocatore deve portare avanti. Nel primo turno di gioco, ciascuna delle fazioni, inizia con tre carte azione, mentre a fine del turno, dovrete sempre andarla a pescare dal mazzo in comune, fino a averne un massimo in mano di 5, quando iniziate un turno, dovrete sempre averne 5 in mano, mai meno, se nel caso invece ne abbiate in più, dovrete scartare, per ridurre il numero di carte, sempre fino a 5, dovete avere sempre e solo all'inizio di ogni turno, 5 di queste carte in mano. Mettiamo caso che gli aerei comincino il turno per primi, qui sulla scheda c'è scritto, cosa possono fare loro durante queste tre fasi, che ricordo ancora una volta, le azioni da fazione a fazione, sono sempre differenti, quindi qui mi dice le cose che posso fare, le azioni che posso fare nel mio turno, nella prima fase del bird song, andiamo a vedere gli aerei cosa possono fare. Se la tua mano è vuota, quindi non è più carte, pescate una carta, quindi comunque se rimanete senza carte, perché l'avete giocato o delle cose varie, dovete pescare una carta dal mazzo in comune, che vi abbiamo fatto vedere precedentemente. Aggiungete una o due carte al decree, qua su in cima, perché come regola gli aerei, sono una fazione che mira a distruggere, praticamente, il dominio delle costruzioni, che sta cercando di portare avanti la Marchesa dei Gatti, però sono anche un popolo molto difficile, sono un popolo molto esigente, per questo vi ho fatto vedere che inizio hanno molti leader. Questo si differenzia dal fatto che non possono, e non vogliono commettere errori, perché per quanto combattano per una causa nobile, e alla fin fine valorosa, rischiano sempre a, c'è una regola in particolare di questo decreto, che rischiano se un leader non va bene, lo mettano all'agonia, lo cambiano, lo sostituiscono, e arriverà in gioco un altro leader. E ora vi faccio vedere come funziona proprio a livello di regole. Ora, devo prendere le mie 5 carte, che ho di partenza, e metterle nel decree, che vedete qua su in cima. Devo mettere una o due carte al massimo, per ogni cosa, per Recruit, per Move, per Battle, e per Build. Con l'unica eccezione, che posso mettere una sola carta, in ciascuno, che abbia il simbolo, invece, degli uccelli, come vedete qua su, dei rapaci. Carte blu, col simbolo dei rapaci, con l'artiglio dei rapaci, ne posso mettere una soltanto. Quindi io dico, facciamo caso, nelle Recruit, metto questa carta qui, qua sotto, mettetela proprio sotto, che si veda soltanto il simbolino, che sbucca in alto, tanto, vi serve solo il simbolino, alla fine, non vi serve la carta, per il decree. Metto Move, questa qui, metto Battle, questa qui, e poi metto, queste due, magari, per, a me mi interessa, inizialmente, costruire, e metto queste due, qui sotto, per il build. Vi ricordo, che si veda, sempre, il segnalino, il liconcina piccolina, quindi del coniglio, del topo, oppure quelle altre, delle volpe, o quelle che ci sono. Ciascuna fazione, per ogni turno, ha tre azioni, quindi tre azioni, da svolgere, in questa fase del Daylight. Poi, la fase dell'Evening, è una fase, dove si fa la conta dei punti. Nella fase del Daylight, ciascuna fazione, può spendere tre azioni, più un'azione aggiuntiva, nel caso abbia pescato, una carta dei rapaci, ma quella è una cosa a parte, molto rara, quindi comunque, ciascuna fazione, ha tre azioni da fare, all'inizio del turno. All'inizio del turno, la fase degli Iri, mi dice, di costruire, usando un Roost. Io dove li ho, i Roost, vi ricordo, che sulla mappa, i Roost, sono quelli, col simbolino blu, delle foglie, quindi, quelli che ho messo, agli angoli opposti, e sono praticamente, le zone, in cui io posso costruire. Quindi mi dice, come prima cosa, nel Daylight, senza le cose, che sono scritte qui, nella scheda, della fazione, dove c'è scritto Daylight, le potete svolgere, senza spendere, nemmeno un punto, perché sono azioni, gratuite, che la fazione deve fare, prima di iniziare, il proprio turno. Il gioco mi dice, che come azioni, io posso muovermi, combattere, o craftare, un oggetto. Sia chiaro, che le stesse azioni, le potete fare, anche più volte, quindi potete fare, tre movimenti, tre combattimenti, tre crafting, comunque avete il limite, sempre di tre azioni. Il movimento, vi fa spostare, di due caselle, come vedete, lassù in cima, vi fa spostare, tutte le truppe, che avete, da una zona a un'altra, però, le zone, le zone devono essere connesse, da una strada, e, con l'unica eccezione, che vi potete spostare, in una casella, se la possedete, o, se possedete, quella da cui state partendo. Se, non possedete, né quella dove state partendo, né quella dove volete andare, non potrete fare, quel movimento lì. Quindi, ricordatevi questa regola, che è molto importante. Nel caso, io volessi spostare, le truppe, degli eri, con un movimento, da qui, a qua giù, in fondo, io potrei spostarmi, da lì a qui, perché, come vedete, io possiedo, la zona di partenza, ma non possiedo, la zona di arrivo. Però, non potrei spostarmi qua giù, perché la zona, non è connessa. Mi dovrei spostare, in una zona sotto, ma non potrei farlo, perché questa zona, al momento, è conquistata, da un'altra fazione, che come vedete, ha una struttura arancione. Quindi, io non potrei muovermi, da una zona, che non possiedo, a un'altra zona, che non possiedo. Dovrei prima, conquistare questa, per potermi spostare qua giù. Quindi, mettiamo caso, io voglio fare, l'azione di spostarmi, perché, tanto lassù in cima, io quella zona, già la possiedo. Posso prendere, tutte le pedine, da una zona che ho, e spostarla, nella zona successiva. Quindi, prenderò quei sei, e le sposterò laggiù. Io, la regola dice, che li puoi spostare tutti, ma ovviamente, non dovete per forza, spostarli tutti, perché ricordatevi, se lasciate, una zona, sguarnita di truppe, sarà più facile, da conquistare, quindi non è mai il caso, di spostare assolutamente, tutte le truppe. Quindi, io ne ho spostati tre, visto che lì, c'è un gatto della Marchesa, da solo, e ne ho lasciati tre, alla mia base. Quindi, sono arrivato lì, ed ho sprecato, la mia prima azione, facendo movimento, sono arrivato lì. Adesso, arrivando in quella zona, vado a fare, un combattimento. Il combattimento, è molto semplice, si svolge, tirando i due dadi, da dieci, non serve che, ogni giocatore, tiri il suo, fatelo tirare sempre, l'attaccante, in questo caso, gli iri. Si tirano i due dadi, e il risultato maggiore, va a favore, dell'attaccante. Il risultato minore dei due, va a favore del difensore. Ovviamente, fossero due risultati uguali, si dividono, insomma, per quelle che devono essere. Io vado a fare, un tiro di dado, e mi viene fuori, un tre e un tre, come vedete qui sui dadi. Quindi, sarebbe un pareggio. Allora, tre, per forza, va agli iri, e tre, per forza, va al gatto della Marchesa. Con l'eccezione che non potete mai fare più ferite, più danni, delle truppe che avete in campo. Quindi, io tre, le sfrutto tutte, perché ho tre gatti in campo. Però, il gatto della Marchesa, che ha fatto un tre, non lo può fare, perché è solo, quindi sfrutterà una sola delle ferite, dei tre usciti sul risultato dei dadi. Quindi, io, con le mie tre ferite, ovviamente mi bastano per distruggere una pedina, e il gatto della Marchesa, facendone tre, ma che poi alla fine dei conti, è solo uno, perché era da solo, potrà uccidermene uno. Quindi, ci siamo, distrutti, una miniatura a vicenda, e io, avendo conquistato quel territorio lì, perché non ci sono costruzioni, e le mie truppe presenti nel territorio, sono maggiori, rispetto a quelle del nemico, che non ce ne sono più, io lì posso andare subito, con la mia seconda azione, spiegando un'azione, magari a costruirci, un nido, qua giù in fondo, conquisto la zona, faccio punti, e quindi sul cursore dei punti, perché vi ricordo che l'avventura, finisce quando si arriva a un risultato di 30 punti. Il primo giocatore che con le proprie regole arriva a 30, ha vinto la partita. Poi, ci sono le carte azione, le stesse che abbiamo usato, per metterle qua giù dietro, lo vedete, nel, nel decree, degli eri, e sono le carte azione che ci dicono cosa possiamo fare. Questa carta qui, quando giocata, ci dice che, ah, ne possiamo giocare quante ne vogliamo a turno, non c'è una limitazione, fino a che c'è carta in mano, le puoi usare, no? E non vanno a costarti un'azione. Questa qui dice che, in questo turno, io posso vedere la mano di un altro giocatore, però, queste carte sono belline, perché hanno una limitazione, hanno un simbolino, come vedete qua su in cima. Quindi, io per giocare questa carta, che ha come simbolo un topo, dovrò per forza essere, nella zona, di un topo. Quindi, se volessi usarla qui, non la potrei usare, perché c'è il simbolo di una volpe, ma, se io fossi invece qua, la potrei utilizzare, perché c'è il simbolo di un topo, e quindi sì, in questo caso, in questa zona, potrei usare questa carta. C'è un'unica limitazione, che le carte dei rapaci, essendo creature selvagge, che vivono sopra la mappa, quindi sugli alberi, quelle le potete, le carte blu, le potete usare dove volete sul campo. Per le altre, invece, dovete sempre usare il colore della zona. Completano la mappa, le zone di costruzione, le zone di raccolta, e i token, la su in cima, che questo gioco, ogni faccio è nelle sue regole, gli iri, guadagnano punti, praticamente, sabotando i piani delle altre fazioni, per salvaguardare il bosco, il regno del bosco. Mentre invece, la Marchesa dei Gatti, guadagna punti costruendo, quindi tagliando legna, costruendo equipaggiamenti, e cose varie. Quindi, questo è un gioco, dove non abbiamo mai, lo stesso obiettivo, e spiegarvi tutte le regole, ragazzi, ci vorrebbe un video, da tre ore e mezzo, perché, ogni fa, voi dovete conoscere, a memoria, le regole della fazione, che è andata a giocare, perché, questo gioco, ha tre regole in croce, semplicissime, per ogni fazione, ha le sue. Si guadagnano punti, combattendo, si guadagnano punti, nel caso della Marchesa, costruendo, si guadagnano punti, nel caso degli eri, distruggendo i piani della Marchesa, e riprendendosi il bosco, si guadagnano punti, in tante maniere. Voi dovete, più che altro, conoscere, come le vostre tasche, la fazione, che andrete a giocare, che andrete a scegliere, per quella partita, ma tanto, sulla scheda, c'è scritto tutto, non vi potete sbagliare, perché è come veramente, averci il creatore del gioco accanto, che ti spiega passo per passo, come fare. Le regole, sono tante, ma sono poche, che detto così, un vor di nulla, semmeno una cosa malata, sono tante, perché ogni fazione, c'ha le sue, però sono poche, perché fondamentalmente, fatto il combattimento, conquistate le zone, costruendo oggetti, e sabotando i piani dell'avversario, il gioco, alla fine, si riduce tutto così, guadagnando punti, vittoria, e il primo che arriva a 30, ha vinto la partita. Se devo dare un voto al gioco, ve lo dico subito, le do 8, senza meno meno, più più, niente di strano, 8, non vedo l'ora, di vedere la versione in italiano, perché anche per vedere un po' come verrà tradotto, perché ci sono tanti termini, un po' arcaici, medievaleggianti, voglio vedere come li tradurranno, comunque il gioco è interessante, è veloce, però vi dico la verità, a prima kit aperta la scatola, è preso il manuale, cioè, sembra complicato, sembra complicato, ma non per il fatto, come vi ho detto durante, poi, un piccolo esempio della partita, non perché abbia troppe regole, no? È complicato per il fatto che, ogni fazione ha le sue, perché le regole del gioco, sono veramente, tre incroce, combattimento, movimento, conquista dei territori, e costruzione, cioè, sono pochissime, però ogni fazione ha le sue regole precise, che uno dice, cioè, ma io davvero per giocare, devo conoscere le regole di 4 fazioni, che, cioè, da 4 che erano, diventano 20, diventano, per farvi l'esempio, no? Infatti, per questo, entrano in gioco, le carte riassuntive, che potete vedere qui, che sono in tutto 16, e sono delle piccole carte riassuntive, per quello che una fazione fa, o non può fare. Ora, tutti i giocatori, devono conoscere tutte le regole delle fazioni, perché, se il vostro avversario, voi conoscete bene la vostra, ma non la fazione del vostro avversario, il vostro avversario sta barando, voi come ve ne accorgete, quindi, comunque, per fare una partita, dovete conoscere tutte quante le fazioni, però, perlomeno, da avere un'idea abbastanza sommaria, oppure, tenere la carta lì accante, e vedere, quello ha costruito una osa, e non la poteva fare, perché nella carta non c'è scritto. Le regole, come vi ho detto, sono poche, però, c'è da tenere in mente tante, perché dovete conoscere bene le quattro fazioni, perché ogni fazione ha la sua tattica. Magari, giocate contro la Marchesa dei Gatti, vi aspettate che venga a combattere, fate un esercito, mirata al combattimento, con gli Eri, per distruggerla, e non ci sarà mai nemmeno un combattimento, perché la Marchesa vince, semplicemente, costruendo strutture, non ne frega niente di combattere, basta che costruisca strutture, e vincerà comunque la partita, e voi avrete il vostro bel esercito, e l'avrete perso. Quindi, anche bene a livello strategico e tattico, di conoscere tutte quante le varianti delle fazioni. Come voto, ragazzi, 8, è un gioco assolutamente geniale, è un gioco da avere, è un gioco che non vedo l'ora di rivedere, magari da avere, perché no, anche di riprendere l'inversione italiana, perché sono curioso, e ecco, veramente, mi hanno tradotto le carte, ed è molto, molto, molto interessante. Li do un bel 8, meritatissimo, uno di quei giochi che non deve mancare, e lo rivolrei altre mille volte, perché è veloce, immediato, divertente, ma anche geniale, perché non ho mai visto un gioco con 4 regolamenti differenti. 4 regolamenti, ogni fazione c'ha le sue regole, volete cambiare fazione? Dovete ripassare un'altra giornata, leggervi le regole, e appunto la tattica belligerante di quella fazione lì. Quindi, passato, ragazzi, in descrizione, assolutamente ci sono sempre i nostri link, andate, cliccate, iscrivetevi, perché per noi è una cosa importante, che ci crediamo molto, trovate Instagram, trovate Facebook, trovate il sito Maledetti Dadi, dove facciamo sempre recensioni, anche lì unboxing, e altre cose, e io spero ovviamente che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!